Ovviamente me ne fotto di Venezia come prima del resto. Così Barbara Balanzoni, la dottoressa divenuta famosa per le sue posizioni in OVAX, ha commentato sul suo profilo Twitter la comunicazione arrivata ieri dall'Ordine dei Medici di Venezia in cui si comunica la sua radiazione, cosa che non ha scosso particolarmente il medico che ha prestato servizio in reanimazione a Venezia e attualmente lavorava come anestesista libera professionista tra Veneto e Piemonte. Dopo una lunga istruttoria, la Commissione ha dunque deciso di allontanarla definitivamente dalla professione, ma il Presidente dell'Ordine Veneziano che non vuole entrare nel vivo della questione spiega. Al momento lei ha un mese di tempo specificato per accettare la radiazione o fare ricorso in Commissione Centrale. Facendo ricorso in Commissione Centrale il ricorso sospende la sanzione fino all'esame del secondo grado. Quindi tu puoi accettare la sanzione e un mese di tempo per farlo. Oppure puoi fare ricorso e ci comunichi il ricorso. Guarda, tu mi hai dato una sanzione e io ti ho fatto ricorso in Commissione Centrale. Perfetto. A questo punto il ricorso blocca l'effetto della sanzione fino al giudizio della Commissione Centrale. Di fatto fino a che Balanzoni non risponderà la radiazione non è effettiva, ma lei al momento tira dritto e dopo un primo commento ha pubblicato il documento con i nomi dei medici in Commissione additandoli. Ecco gli eroi. Un comportamento ritenuto molto grave dalla Commissione per svariati motivi, spiega Leoni. Dall'aver tentato di convincere i cittadini a portare teorie che ad oggi non sono accreditate in alcun modo, screditando anche il lavoro dei colleghi, conclude Leoni. Non dispiacetevi, scrive. C'erano due possibilità, diventare assassina o battermi per non esserlo. Ho scelto la seconda, punto.